La rigenerazione urbana è una ricuscitura di quella che è il centro storico della nostra città con la primissima periferia. Ci può fare qualche esempio così, tanto per capire dove interverrei? Allora, con la mobilità sostenibile abbiamo deciso di portare avanti la realizzazione di 7 km di strade ciclopedonali. Una fra tutte, quella veramente importante, è l'apertura del passaggio nella rotatoria del multisala che permetterà di collegare i tratti esistenti di ciclabili a via Sette Ponti e da lì poi partirà una nuova ciclabile che collegherà Ceciliano. Importante, sempre in quell'area lì verrà creato un percorso ciclopedonale che passerà dal Magnifico e arriverà fino al Lobby. Per quanto riguarda invece la rigenerazione urbana, una fra tutte è la zona di San Clemente in cui verrà riqualificata tutta l'area, nuova vita, nuovi spazi destinati soprattutto all'incontro sociale, ma anche la riqualificazione di quelle che sono le mura storiche con passaggi anche pedonali nuovi, l'area ex Bastanzetti, quindi il collegamento tra via Petrarca e via Baldaccio D'Angliari con un passaggio che sia anche in sicurezza per i nostri concittadini, l'area del gioco del pallone per dare un nuovo accesso alla parte alta della città dalla zona est del nostro centro storico, con la realizzazione di un collegamento, diciamo, meccanico che permetta di accedere appunto alla parte alta della città, ascensore o scale mobili, questo è quello che poi dovremo definire. Quanti di questi spazi saranno dedicati all'area verde? Tutti, perché in tutti gli spazi di rigenerazione urbana comunque la parte del verde la farà da padrone. Anche la piazza stessa di Saione, la piazza Giotto, che sono aree oggetto di intervento, avranno un ampliamento di quella che sarà specialmente in piazza Saione, dando alla piazza una centralità rispetto a quella che è la chiesa. Oggi non avviene questo, perché abbiamo una viabilità davanti alla chiesa, sarà oggetto chiaramente di nuovo spazio verde.